Ciao a tutti, benvenuti sul mio canale Veri ASMR, io sono Federica e quella che state per guardare è una nuova puntata di 4 chiacchiere a bassa voce con oggi per l'occasione avremo un ospite molto, molto, molto speciale direttamente dal canale Richard Thunder, ecco voi, Richard benvenuto, grazie, allora è la primissima volta che Richard fa un video ASMR, come ti senti? un po' strano, ha una bellissima voce lui, infatti vi lascio giù in infabox il suo canale ovviamente per andare a sentirla o soprattutto andare a sentire gli argomenti di cui tratta che sono molto, molto interessanti, oggi con la nostra tazza di tè faremo appunto 4 chiacchiere su alcuni tè che speriamo siano interessanti, voi indossate le cuffie e rilassatevi, stiamo per iniziare allora Richard, eccoci, innanzitutto raccontiamo a chi ci ascolta di cosa parla il tuo canale che cosa fai, perchè sei su youtube, perchè ti ho invitato beh sul mio canale parlo di argomenti LGBT, però più nello specifico parlo di argomenti a tematica transgender, infatti sono un ragazzo trans, ok? ho documentato anche su youtube la mia transizione a partire dal 2015, però non sono io la focus ok, quindi diciamo che quello che ti interessa è fare divulgazione su questi temi esatto però hai anche parlato di te Richard ti faccio questa domanda che magari ti suonerà un po' strana però è perchè magari molte persone che ci stanno ascoltando non sono esperte di questo tema e magari non ne hanno mai sentito parlare che cosa significa essere un ragazzo trans? semplicemente vuol dire che sono nato femmina e che mi sento un ragazzo quindi ho fatto una transizione quella che viene definita F2M anche se effettivamente non si usa molto più come termine in questo senso però facendola facile è quello ok, quindi hai fatto un processo per adeguare il tuo corpo esatto il tuo fisico al modo in cui tu senti di essere e sei? si ok, è corretto dire così quindi ho preso ormoni, cioè prendo tuttora testosterone e mi sono operato di mastectomia quindi a petto e istereotomia quindi non ho più utero vai vai è una cosa che ti vorrei chiedere e che soprattutto vorrei che dicessi ci si può definire trans anche se non si esegue questo processo di adeguamento del corpo? assolutamente si perchè comunque essere trans non vuol dire prendere un uomo e operarsi ma significa soltanto non sentirsi appartenenti al senso che è stato assegnato alla nascita quindi se sei nato biologicamente maschio e ti senti una donna sei trans sei trans è uguale per l'opposto ma anche per le persone non binarie quindi è semplicemente legato a una condizione legata a quello che si sente alla percezione che una persona di sé se lo sta si ok? e quindi suppongo che anche al completamento di un eventuale processo di transizione quindi quando si sente che il proprio corpo corrisponde perfettamente all'idea che si ha di sé non si possa smettere di definirsi trans se questa era la condizione di partenza no, sia sempre trans così come tu sarai sempre cis ok, cis significa cisgender cioè nata con il sesso d'appartenenza corrispondente al sesso percepito al genere percepito ok? un'altra domanda che ti faccio ti piace il tema? sì allora immagino che moltissime persone siano curiose rispetto a questo tema io in primis sono molto curiosa perché è un tema che è poco dibattuto ancora troppo poco rispetto a quanto dovrebbe almeno e comunque di cui si parla solo in determinati contesti che spesso sono negativi tipo quello legato magari alla prostituzione però difficilmente si sente parlare almeno nei media tradizionali di ragazzi o bambini trans e di come vivono queste persone la propria condizione di cosa si può fare per aiutare queste persone a stare meglio nella società come giusto che sia e quindi ti vorrei chiedere questa curiosità che sicuramente c'è da parte di moltissime persone nei confronti del fenomeno può qualche volta sfociare in domande percepite come offensive? sì soprattutto quelle legate al proprio corpo ma anche al proprio nome di battesimo tipo io non ho mai detto a mio vecchio l'ho mai su internet perché so che comunque sarebbe utilizzato contro me in qualche modo e poi perché mi dà fastidio oppure molto spesso le persone mi chiedono cosa andare in mutante la mia salita risposta è che se non devo avere rapporti sessuali con loro non sono affari loro ma poi perché tu fai da loro a domandare che cosa è il nome di mutante io non capisco questa cosa non lo so cioè non ha senso per me non ha senso non lo so poi magari sarà pure una domanda che viene naturale però a me non lo so non terrebbe di chiedere cioè perché cosa ti importa? non l'ho mai cambiato anche il nome di battesimo alla fine non è importante cioè adesso è questo basta ma loro molto spesso una volta che lo sanno cominciano a pensare poco il nome e magari anche utilizzarlo si sentono proprio legittimati si no va bene questo ok quindi fate attenzione mi raccomando non siate troppo invadenti con le domande quando non conoscete una persona comunque quando conoscete una persona nuova cercate di essere, di avere d'atto ecco in generale giusto? si com'è stato per te mettere anche te stesso in prima persona nel tuo canale? hai magari avuto dei problemi con qualcuno oppure hai ricevuto un riscontro positivo? com'è stato? più che altro ho avuto un riscontro molto positivo ok poi insulti e cose del genere sarà anche perché ho messo le specifiche che alcuni insulti non possono comparire nei momenti hai filtrato si è una cosa che dovrei fare anche io in realtà lo faccio già però non so per quale motivo a me arrivano lo stesso gli insulti un po' strano molto strano ma a differenza della vita reale tu trovi che su internet ci sia più tendenza magari a parlare a una persona con meno filtri non so se ti capita magari nella vita reale di ricevere non dico insulti però magari discriminazioni oppure no però su internet so che molte persone restano vittime di questo genere di pratiche e secondo te qual è la differenza in questo caso tra il mondo reale e il mondo virtuale? lo schermo davanti a uno schermo è più facile scrivere insulti dal vivo invece c'è anche imbarazzo a volte secondo te è per l'anonimato quindi? si perché si sentono protetti però comunque dal vivo diciamo che non ho subito così tante discriminazioni per il fatto che sono trans per il fatto della mia pelle si è più facile chiami di che ero negro di merda rispetto altro perché comunque dal mio aspetto ecco c'è questa cosa lì è capitata per te si soprattutto in metro bene non veramente cioè bene è ironico ovviamente una volta mi sono proprio preso a pizze con una ragazzina pensavo fossi di terza media e quindi faceva la grossa vabbè ma questa gente che problemi ha? mi capita spesso quei vecchi ma che senso ho? che fanno vesti negri sempre a cellulare e poi dicono che non c'hanno soldi oppure mi capita che salgo sulla metro la gente comincia a toccarsi le tasche oppure sei mesiato loro salsano? loro non lo sanno però io so che tu hai avuto anche esperienze all'estero hai vissuto sempre in Italia e secondo te vivere in Italia da questo punto di vista è più difficile? cioè le persone sono più chiuse hanno qualcosa di qualche problema sinceramente non so farti un paragone perché io ho vissuto in Svezia ok ho due sette anni quindi non è che all'asilo abbia subito che cosa non lo so magari i miei genitori sanno dirmi qualcosa mio padre dice sempre che gli svedesi sono razzisti ma non lo so però comunque in Italia però pensi di si beh in Italia si lo so secondo questa cosa succede perché siamo un paese fortemente nazionalista perché non abbiamo mai, non ci siamo mai aperti come cultura al diverso da noi o se lo stiamo facendo lo stiamo facendo veramente negli ultimissimi tempi e poi anche la mia domanda rivela comunque che c'è qualcosa di sbagliato perché anche il dire diverso da noi implica che ci sia un noi percepito come unitario e qualcosa che sia altro da questo cioè mi sembra proprio molto frutto di una mentalità che non si è mai veramente aperta che non l'ha mai guardato oltre sicuramente non te lo so dire ma sicuramente è anche un problema dei media poi il mio problema è che mio padre è italiano si la mia pancia infatti mi è capitato anche di gente che mi diceva eh anche se tu hai avuto la cittadinanza italiana dalla nascita tu non sei italiano ma perchè come hanno fatto aspetta cosa era col caso di Palodelli adesso può essere che gli hanno detto si lui è stato adottato mi sembra non lo so no no lui è andato a Pal... no vabbè comunque è andato in Italia è italiano non so se... non so perchè però è andato in Italia gli hanno detto comunque tu non sarei mai totalmente italiano sulla base del colore della pelle perchè c'è questa concezione che gli italiani hanno la pelle abbiano una pelle chiara non lo so se poi va in Sicilia cioè non è così ci sono dette le regioni al sud dove le persone hanno la pelle scura è normale conosco Calabrese più scura di me è normale cioè infatti non ha senso ma tu dove sei nato in realtà? a Roma no mio padre è in Napoli mia madre è in Londra a proposito di questa cosa ti vorrei chiedere tu come ti poni nei confronti del cosiddetto politically correct? cioè pensi so che molte persone ce l'hanno un po' col politically correct cioè dicono eh però sembra che non si possa più dire niente ormai bisogna stare attenti a parlare nella tua esperienza com'è questo? cioè pensi che sia invece una cosa buona stare attenti nell'usare le parole oppure pensi che in effetti ci sia un po' un abuso ehm di diciamo protezione cioè che ci si facciano troppi problemi a volte beh io penso che le persone che dicono quello che hai detto tu adesso sono persone che sono frustrate perché non possono più insultare le persone così a casa niente di più cioè non è che devi stare attento che non puoi più dire niente semplicemente non puoi insultare le persone soltanto perché ti va questo è vero però è anche vero che nel tempo è cambiata è cambiato l'uso delle parole ed è anche cambiata la percezione rispetto a certi termini che magari in passato venivano visti come neutrali e oggi no sì sì assolutamente molti termini che prima erano medici adesso sono insulti eh infatti facciamo degli esempi per esempio nel tuo caso per esempio dire a una persona che ha la pelle scura che è una persona di colore so che in Italia viene ultimamente percepito come un insulto comunque come un termine offensivo non da parte mia però e invece in America no si dice in America si dice tranquillamente io vivo su internet inglese diciamo ok io leggo soltanto commento in inglese commento in inglese sto più che altro su Reddit ci sono pochi italiani è interessante Reddit si perchè è un po' un internet come una volta senza filtri ah e io sono molto per il far west su internet in realtà anche se potrebbero esserci cose sgradevoli comunque meglio meglio sapere che ci sono a me piaceva andare in giro a distruggere i siti quindi io sono un po' un'eccezione è un passato che non racconti senti ma a parte questo di cosa ti occupi nella tua vita che cosa fai? so che fai tantissime cose interessanti ma c'è troppe cose troppe allora mi sono laureato in sociologia lo scorso luglio adesso sto facendo la magistrale scelte sociali applicate sono presidente di un'associazione a tematica trans che si chiama azione trans sono il direttivo del key center adesso sono vice presidente di un'associazione che si chiama gender x e poi faccio tanta formazione ai ragazzi giusto ieri ero alla croce rossa italiana e quindi faccio un tempo di queste cose sono sempre in giro a fare qualcosa infatti mercoledì ho un esame non so neanche se rifasserò non sai di cosa parla probabilmente non me lo so però mi mancano ancora delle foggine da studiare ok senti ma da quanto tempo ti sei concentrato sull'attivismo? ho cominciato quando ero in quarto dicevo ok e nel tempo hai aggiunto immagino sempre più attività? si lo so ok ultimamente sto facendo anche tante cose all'estero ad esempio era giugno 2018 in una settimana ho fatto probabilmente al giro del belgio per andare a pioventi wow e tento di fare almeno una cosa all'estero all'anno ma all'estero rispetto vabbè non voglio generalizzare perchè poi all'estero ho detto così però mettiamo nel resto dell'Europa tua mamma questa cosa magari non parli molto volentieri però so che hai avuto un po' di problemi con la tua famiglia quando hai comunque fatto il coming out quando hai spiegato loro la tua condizione come tu ti sentissi e adesso che sono trascorsi un po' di anni da quando hai parlato di questo e comunque hai fatto molte più cose appunto sei stato attivista in tantissimi contesti diversi sei anche apparso in tv su tanti social media e i tuoi genitori soprattutto tua mamma adesso vedono tutto questo in maniera un po' diversa hanno accettato un po' di più la cosa oppure sempre si creano problemi non ne parliamo? no va bene don't ask don't ask don't tell ok ma vuoi che tagli la domanda oppure? non ne parliamo ok rispondi non ne parliamo no ma poi lei ha cominciato a parlarne a maschile solamente tipo due giorni fa non ho un annetto fa e la pepera scusa c'è qualcosa questo? si però soltanto una volta che ho portato la mia ex a casa è venuto così non so perché no non ne ho chiesto non fa niente non te lo chiedere dai comunque sono piccoli progressi per alcune persone è molto più difficile uscire da certi schemi quindi cosa si potrebbe fare concretamente ognuno di noi cosa potrebbe o dovrebbe fare per migliorare questa società e renderla più accogliente e dal pensiero più fluido in modo che le discriminazioni possano essere praticamente ridotte a zero e non debbano manifestarsi in episodi di violenza, di bullismo ma come quelli che invece capitano continuamente da sociologo? se posso darmi questo titolo? si però ti direi che è una cosa impossibile secondo te ognuno di noi non può fare qualcosa? possiamo fare qualcosa ma azzerare? no cioè gli esseri umani sono comunque portati a creare un in group e un out group in tutte le società fa parte di noi quindi un noi e un loro come diciamo c'è un libro va sulla base di cosa però è molto labile si perchè può essere ad esempio soltanto la famiglia oppure anche a scuola dove si crea la mia classe e la tua classe si è vero ma ci sono studi dove hanno fatto praticamente vedere anche che si crea questo assio tra gruppi anche in gruppi creati soltanto con il lancio della monetina quindi su base è solamente casuale? si soltanto se il gruppo si sente unito in qualche modo da qualcosa da qualsiasi cosa intendi però si anche da uno scopo comune ok ad esempio una squadra di calcetto fatto con i bambini tu dici tu sei la squadra 1 o la squadra 2 a quel punto per te la squadra 1 vince se tu sei 1 si si ho capito benissimo però per esempio anche questo fatto di dividere nelle classi i maschietti dalle femminucce con il grembiule segnato diverso non lo so ma è una cosa che mi ha sempre dato un po' fastidio perchè non l'ho mai capita e secondo me contribuisce a far funzionare il cervello in maniera binaria sinceramente adesso passando davanti le scuole non vedo più il bianco e anche alcune scuole non lo fanno più mi vedo tutti i blu ultimamente io ce l'avevo bianco infatti mi ricordo che è un quinta elementare ho fatto di tutto per non mettermelo si anche quando stavo io erano blu e bianchi o anche addirittura rosa e bianchi no rosa ero dall'asilo da me all'asilo non sono andata all'asilo in Italia però i miei fratelli piccoli ce l'avevano a quadretti azzurro e i bambini ce l'avevano a quadretti rosa arg vabbè e senti a proposito di questa cosa ti vorrei chiedere io so che noi abbiamo, non lo so perchè ne abbiamo parlato altre volte abbiamo una concezione un po' diversa delle etichette nel senso io sono quasi totalmente contraria mentre a te piacciono per certi versi perchè mi hai detto che comunque aiutano a definire e questo può essere utile mi spieghi questa cosa facci capire il tuo punto di vista è comunque interessante beh perchè ad esempio io prima dei 14 anni non sapevo dare una definizione a quello che sentivo e una volta che sono effettivamente riuscito a trovare i termini adatti mi sono sentito più tranquillo nel senso che finalmente avevo una risposta ma questo vale un po' per tutto quanto anche dal medico se tu vai al medico dici che cosa ho? non lo so è peggio rispetto a se ti diceva il cancro anche perchè comunque è una definizione hai un qualcosa da poter cercare un qualcosa da fare hai una base di sicurezza ma d'essere umano dai etichette a tutto quanto anche mamma e papà sono etichette anche cane e gatto sono etichette cosa rende una cosa un cane? una cosa un gatto diventa soltanto a livello linguistico devi vedere la parte materiale la parte linguistica che non sempre sono uguali certamente categorizzare fa parte del modo di giudicare di conoscere la realtà e tra l'altro la cosa che dici è molto socratica cioè definire un problema in qualche modo e circoscriverlo dargli un nome fa si che tu possa anche lavorare su questo problema e anche volando un giorno di costruirlo perchè sai di cosa si tratta e quindi puoi avere a che fare con questo però secondo me c'è uno step in più dopo questo quindi il mio parere è un po' diverso nel senso che io non abolirei completamente le etichette però sono per il superamento cioè a un certo punto dopo che hai dato un nome alle cose avere anche quella fluidità mentale per poter dire va bene lo sto chiamando così però magari è anche altro e comunque la mia definizione non lo esaurisce non da completamente il significato a questa cosa perchè le sfumature sono tante no ma sono d'accordo su questo non penso che comunque avere un nome significa il dover rientrare in quel nome in quella definizione al 100% semplicemente avere quel briciolo di sicurezza di sapere effettivamente cos'è cioè tutta la corrente sociologica che si tratta effettivamente la parte linguistica ci sono tanti sociologici che sono interessati a cui e c'è anche una teoria che non fa parte di questa corrente che si chiama teoria dell'etichetta teoria dell'etichettamento non mi viene che però dice soltanto che un'etichetta diventa negativa quando c'è una connotazione negativa anche una cosa ad esempio barbone barbone è negativo se dici clochard non lo è ovviamente sì per quanto riguarda le etichette che si danno a delle problematiche o a dei modi di sentire secondo me bisogna solo però sono d'accordo con questa cosa che hai detto bisogna solo stare attenti a non farsi intrappolare cioè a non rimanere chiusi perché altrimenti nel momento in cui tu scopri anche un'altra cosa diversa magari ti destabilizzi perché dici oddio allora non sono totalmente così quindi non vado bene neanche per questo gruppo allora devo cercarne un altro e se ne creano tantissimi poi di gruppi tanti quanti cioè se ne dovrebbero creare tanti quanti sono le cose del mondo ed è tipo impossibile ma io penso che si possa rientrare in un'etichetta anche senza essere effettivamente identici spiccicati a tutte le altre persone che lo utilizzano questi sono i motivi per cui porto tante esperienze diverse sul mio canale perché io non voglio che i ragazzi che mi guardano pensino io non mi sento esattamente come Richard allora non posso definirmi così se io porto anche esperienze differenti posso vedere allora non esiste solo un'opzione ma posso essere comunque un ragazzo trans senza dover odiare per forza il rossetto non lo so senza volermi effettivamente operare al petto senza il dovermi non truccare più e così io non lo faccio ma questo non vuol dire che sia sbagliato che gli altri non possono e quindi voglio effettivamente voglio vedere infatti il tuo canale è interessantissimo anche per questo secondo me quindi andate a guardare il canale di Richard giù in descrizione mi raccomando c'è il link hai delle risposte ai tuoi video di ragazzi o ragazze che magari si sentono in difficoltà per la loro condizione e che però grazie a un tuo video vengono illuminati o illuminate da un modo di pensare per cui magari non erano riusciti a fare riferimento fino a quel momento si di tantissimi e che cosa ti dà questo? allora è un po' strano perchè solitamente mi scrivono sempre le stesse cose quindi dopo un po' non ha più l'impatto che aveva all'inizio però comunque sono contento di averlo aiutati magari quando ci pensi a freddo e dici però vedi so fare anche con un solo video qualcosa di buono ma poi basta soltanto aiutare solo una persona poi penso che penso che tu ne abbia aiutato più di uno troppe cose fai va bene Richard senti chiudiamo questa bellissima intervista con una domanda che faccio a tutti qual è una cosa che non hai ancora fatto e che vorresti assolutamente fare nella tua vita e che se non facessi avresti veramente un grande rimpianto il dottorato vabbè dai il dottorato è vicino ti auguro di riuscirci ma sicuramente ci riuscirai no perchè comunque a me piace fare ricerca e fare fare ricerca sulle persone trans che è una cosa che scarseggio soprattutto in Italia è vero tra l'altro la tua tesi era appunto ce l'hai detto prima l'argomento qual era della tua tesi che hai appena fatto della loro la discriminazione dei ragazzi trans alle superiori credo comunque sia un argomento poco di battuta io non ho trovato niente beh quindi era sperimentale la tua non ho trovato assolutamente niente in italiano bene va bene grazie per essere stata con me spero che ti sia piaciuto parlare così in ASMR fare queste chiacchiere un po' da cuscino ancora un po' strano ancora un po' strano ma ci sia un pieto come diceva la trasmissione di Nemo una cosa strana può anche essere bella facciamoci in gin mi raccomando visitate il suo canale e noi ci vediamo se vi va nel prossimo video un bacino a tutti ciao a me non potresti farlo no perché ho tipo duecento metri da casa pop una ferrovia ah beh no forse no quindi ogni tanto passa e poi sto nera lì Natalia a Fiumicino però guarda che non si sentono nel video perché mi vero ma meglio fai tanti jump cut no no però se posso pure io me ne posso comunque io devo fare un sacco di tagli per queste cose poi anche se una cosa non la dico nel modo giusto mi scoccio perché penso che comunque quando uno ascolta un video a passavoce deve prestare più attenzione e quindi anche presta più attenzione alle parole proprio e non lo so le peso molto di più le parole nei video ASMR che quando parlo giusto non so se è normale cioè magari è una cavolata che faccio io però veramente lo credo e io molto spesso mi accorgo che ho fatto qualche errore mentre sto montando e che fai? o taglio oppure metto una correzione quindi la stai rispetto adesso? si perché alcune volte dico delle cose che boh perché l'ho detto oppure come un verbo vabbè quello è il minimo però mi dà fastidio vabbè no la cosa brutta è se esprimi un concetto è brutta la cosa più fastidiosa secondo me quando esprimi un concetto in maniera diversa da come l'avresti voluto esprimere e ti accorgi che non funziona detto così che magari può essere frainteso eh cat cat ecco il punto dal libro tipo quando arrivo a questa intervista dirò non si capisce bene tagliamo tutte le domande rimane solo come ti chiami adesso tocca a te hai già lasciato il mi piace iscriviti e clicca sulla campanella per non perderci di vista oppure abbonati se vuoi sostenermi ed entrare a far parte della fairy crew ah e se vuoi continuare a rilassarti clicca su uno di questi altri video che ti lascio qui intorno penso possano piacerti buonanotte